carpenteria metallica centese azienda leader nella lavorazione del metallo lavori di carpenteria metallica taglio a laser piegatura funzionatura e roditura in cnc con la massima precisione e qualità tanto lavoro ma anche tanta passione via nazario sauro numero 3 telefono 051 683 58 51 impresa merighi 100 opere d'urbanizzazione asfalti e pavimentazioni in autobloccanti impianti fognari e depurazioni acque via stradellazzo numero 3 telefono 051 683 6103 merighi tanta passione per il lavoro sempre a canestro studio fava commercialisti e avvocati a 100 in via della canapa 54 non basta essere dei campioni per vincere serve professionalità disponibilità e cortesia qualità dei servizi e dei prodotti c'è il color a finale miglia e tutto questo pavimenti rivestimenti arredo bagno stufi e accessori per la tua casa delle migliori marche c'è la sarda panaria abk cotodeste italgraniti porcelanosa glam stufe e cammini e tanti accessori il fondatore andrea filippini e lo ftup di cercolo sapranno consigliarti il meglio per la tua casa le premiazioni parlano da sole per questa ragione il nostro testo introduttivo sarà breve evidenziamo solo che tasi la maschera di 100 nei suoi nuovi colori lo avremmo voluto più energico e dalla sua ragione di essere sempre sopra le righe del resto la leggenda dice che abbia preferito un buon bicchiere di vino in osteria che stare con la moglie pertanto non pensiamo abbia timoni reverenziali o ragione di stato nei confronti delle elezioni tasi e tasi e non lo si può far tacere comunque ci abbiamo verso la piazza per le premiazioni il meteo ci condanna ma non ci ferma e nella piazza ci fermiamo e pensiamo ad un nostro concittadino e vogliamo giustizia ma lo spettacolo va avanti siamo all'ultimo atto di cinque andati in onda sentiamo la voce dei vincitori e dei delusi ed è subito polemica ci scusiamo per l'audio non troppo perfetto arrivederci alla prossima puntata primo classificato con punti 320,2 l'associazione carnevalesca toponi 25,2 l'associazione carnevalesca toponi quinto classificato confundi 1712,1 l'associazione carnevalesca mazzanora guarda qua, guarda qua, guarda qua, bravo Quarta classificata di 69,7 l'Associazione Carnevalesca Riscatto! Ecco lì! Riscatto! Ricidono la coppia e la bandiera! Tensi classificati, con punti, 1909,1 l'Associazione Carnevalesca Riscatto! Andiamo per il primo! Andiamo per il primo! Invito il Sindaco di Cento, Piero Lodi, il Presidente Interterritorio in Piera, Filippo Panicini e il Direttore Generale CRC, Iro Andagnano! Ecco il Direttore Generale di CRC, Iro Andagnano! Allora, è chiaro che sono in base le due associazioni! Voglio sentire l'urlo delle due associazioni che si giocano la vittoria finale! La associazione Carnevalesca Riscatto! E la associazione Carnevalesca Topoli! Con punti! 1.982,8 l'edizione 2016 dopo Cristo! La associazione Carnevalesca Topoli! Adoro! Calle Riscatto! Calle Riscatto! Calle Riscatto! Calle Riscatto! Alcantica! Cianata! . Diavai al Socacne è una delle nostre salutazioni! Cianata! Grazie a tutti. E' la prima volta nella show. 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 E' una gioia molto grande. Perchè ero 3 anni che non lo stilavamo. Con i problemi poco a remoto. E quindi abbiamo molto lavorato per fare musica. E' un soggetto molto particolare. E' una ricerca molto più fina. Nel caso che hanno il cannevale. Quindi anche il soggetto delle musiche. Gli veneziani e non veneziani. E' un soggetto. 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 E' stata una cosa molto ricercata. Che la fine ha portato il sole frutto. Per tutti i caristi. L'opera ai topoli. E' stata veramente una grandissima emozione. Veramente. Coronare un anno così. Con le triplette. Ai topoli. Non era mai capitato. Negli ultimi 30 anni. E' una gioia molto grande. Quindi immagino stasera. Per tutti i festeggiamenti. Diciamo l'intera Europa. Sarà una parola generale. Noi in realtà ci abbiamo già pensato. E posso dire che quest'altro anno. Avremo un carro all'altezza di quest'anno. Un carro un po' diverso. Molto potente. E ci saremmo in lotta anche quest'altro anno. Grazie. Grazie. Grazie a voi. E per come si significano i piatti intanto. Direi che la gioia. Le tecniche più popolari che sia. Probabilmente parlano più di quella tecnica. Però non sono vergognati. Perché loro hanno rinchi. Se vogliamo partire dal gestito. I piatti sono stati cacciati via. Quanto al bicicletto. Inzitando la vita. Che ha portato via di Materasino. Probabilmente. Lo vicente infermi. Noi avremmo rinforzato. Neanche cacciate. Neanche non potremmo. Oltre c'eri. Troviamo. In un certo del genere. Le prego a scopo. Se qualcuno va in battaglia. Cerca su erogie. Perfetto. L'erogie ce le ritroviamo a noi. Perfetto. Se c'è uno il mister mondo. Grazie per la visione!